Amici di Cariatinet, buongiorno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di libri, incontro con l'autore, rubrica di Cariatinet. L'ospite di oggi in studio, il professore Franco Liguori. Buongiorno professore, benvenuto, grazie di essere qui. Abbiamo oggi il piacere di conoscere il suo ultimo lavoro, il suo ultimo libro, Cariatinet, tra cronaca e storia. Grazie Cataldo per l'invito e sono lieto di essere qui con te oggi per parlare di questa mia recente pubblicazione sul Novecento Cariatese, che è stata recentemente presentata al museo di Palazzo Chiriaci il 28 gennaio ultimo scorso. Prego, prego, professor. Bene, poi continuiamo. Allora, naturalmente prima di cominciare ad entrare nel merito del libro, che questa volta lo vediamo diciamo in un altro modo, quasi possiamo considerare il lettore che incontra l'autore, per cui ecco certamente per chi come me ha avuto modo di leggere questo suo ultimo libro, professore, devo dire che ne esce veramente arricchita di quella che è stata la storia degli ultimi cento anni del nostro Paese, ma prima ancora di entrare nel merito del libro voglio dire due parole per coloro i quali ecco non conoscono la storia, il curriculum del professore Liguori, che io porterò in sintesi naturalmente. Si è laureato con l'ode in lettere classiche all'Università di Roma alla Sapienza nel 1970, ecco per un quarantennio ha insegnato lettere italiane e latino nel liceo scientifico Stefano Patrizzi di Cariati, in cui ha diretto anche la biblioteca d'istituto e si è fatto promotore di numerose iniziative culturali come l'intitolazione della scuola nel 1986, la compilazione dell'annuario del 25ennio 1994, la celebrazione del quarantennale dell'istituto nel 2010. All'attività dell'insegnamento Franco Liguori ha sempre affiancato un'intensa attività di studio e di ricerca sulla Calabria, sia in ambito storico archeologico che letterario ed artistico, collaborando a periodici culturali regionali, in special modo con il Serratore, Calabria letteraria e alla rivista storica calabrese. Poi dal 1987 fa parte della deputazione di storia patria per la Calabria, è socio anche dell'istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, con sede a Taranto. La sua attività culturale continua ad esplicarsi in studi e ricerche su Cariati, sulla città di nascita e di residenza, ma anche su altre tematiche inerente sempre alla storia e alla cultura cariatese. È anche presidente della Società Italiana per la protezione dei beni culturali, sezione calabrese. La sua prima pubblicazione è la monografia Cariati nella storia, scritta nel 1981 in collaborazione con il fratello romano, insegnita del premio letterale Città di Ciron Marina e del premio Cultura Presidenza del Consiglio. Poi tra le altre pubblicazioni su Cariati si ricorda Cariati, la formidabile delle Rocca dei Ruffo e degli Spinelli, pubblicata nel 2013. Poi per i suoi meriti culturali ha ricevuto il premio Sibaris Magna Grecia nel 1982, il premio San Bernardo nel 2004, il premio Cratis nel 2006, il premio Nazionale di Calabria e Basilicata nel 2012, il premio Eccellenza di Calabria nel 2013, ma questo non è tutto, professore. Abbiamo riportato il giusto qualcosa. Grazie, grazie Catante per questo profilo, pubblicolo professionale e di studiose della storia di Cariati in particolare. Ci sentiamo in dovere di ringraziarle per la ricchezza culturale di cui lei ci porta a conoscenza e ce ne lascia tesoro. Allora, professore, entriamo nel libro. Come dicevamo, tratta il XX secolo. Come nasce questo libro sul Novecento? Che tipo di ricerca c'è dietro? Quali fonti ha utilizzato per ricostruire un secolo di vita locale sotto tutti gli aspetti, politico-amministrativo, civile, religioso e culturale? Bene, questa pubblicazione sul Novecento Quariatese è nata un po' di anni addietro, insomma. Naturalmente ci ho lavorato soprattutto intensamente negli ultimi due o tre anni, ma l'interesse per questo argomento, per questo tema del Novecento risale agli inizi degli anni 2000. Ricordo che verso la fine del secolo scorso, come abitualmente diciamo, nel 1998, io collaboravo al giornale locale cariatese, Il Ponte, curavo la terza pagina e mi chiedevo, stava per terminare il Novecento, eravamo nel 998, mi chiedevo se era il caso di dedicare uno studio, una ricerca al secolo che stava per finire, il Novecento, principalmente per quanto riguarda gli eventi di Cariate. Da allora, quindi parliamo di oltre venti anni or sono, cominciai a cantonare materiali informativi che potessero servirmi per questo lavoro. Intanto cominciai a frequentare l'archivio comunale di Cariate, anche se non si tratta di un vero e proprio archivio, perché purtroppo questo manca, ma ci sono conservati registri, carte ed altre documentazioni che sono utili per il ricercatore e che io ho sfruttato abbondantemente. Parlo dei registri dei consigli comunali, delle delibere, di giunto, che ho letto attentamente, prendendo appunto, consultando e riordinandolo. E questa è una prima fonda molto importante per raccontare la vita amministrativa del Paese. Oltre a questo poi sono andato oltre, andando a consultare a Cosenza l'archivio di Stato e l'archivio della Prevettura, che mi hanno consentito di acquisire numerose altre informazioni. Dalla Prevettura ho potuto attingere, per esempio, tutti i dati sulle competizioni elettorali che si sono svolte a Cariate negli anni, con la formazione delle liste, i risultati, dati precisi, documentali, che ho utilizzato poi nel libro. Dall'archivio di Stato, invece, ho attinto soprattutto informazioni per quanto riguarda il periodo del ventennio fascista, un periodo storico che non era stato mai studiato prima e di cui non si sapeva quasi nulla. E lì ho potuto trovare tante manifestazioni documentali di quell'epoca, allorquando non c'erano più i sindaci, ma c'erano i potestà, queste figure nuove, di cui poi parleremo in seguito, che svolgevano la funzione del sindaco del Consiglio Comunale. Era una figura che governava il Paese, diciamo, da solo, quindi un sistema amministrativo fascista, insomma, il potestà. Oltre a queste fonti che ho detto prima, archivio comunale, archivio della Prevettura, archivio di Stato, un'altra fonda preziosa per me è stata quella giornalistica. Sono andato alla ricerca, ma questo io lo facevo ancora prima che mi dedicasse al libro sul Novecento. Ho accumulato e accantonato, catalogato tutti gli articoli che sono usciti negli anni, le cronache che sono uscite negli anni sui vari periodici, sui vari giornali locali, che riguardavano la vita del nostro Paese, sia civile, amministrativo, religioso, culturale. Quindi da tutta questa massa di informazione poi ho dovuto ovviamente ricavare un racconto storico di questi cento anni, dal 1900 al 2000. E da questo racconto storico è venuto pure il libro. Come ha detto lei alla presentazione, non lo racconto io, ma lo faccio raccontare. Esattamente, quindi non è una narrazione diciamo basata sulla memoria, nel senso che io ho la mia età e allora racconto attraverso i ricordi miei personali. C'è anche questo in parte, ma la narrazione è basata sui documenti. Quindi è una narrazione rigorosamente storica, documentale. Anche di cui ci ha appena detto. Ecco, il suo libro sul Novecento è composto di oltre 460 piacevoli pagine. Come è divisa la lunga narrazione storica di questo secolo? Quando mi sono trovato davanti a questo notevole materiale, numeroso materiale informativo, ho dovuto fare una scelta. Non ho ritenuto di dividerli in capitoli come se si trattasse di un romanzo, di un'opera letteraria. E allora, essendo un lavoro rigorosamente storico, ho ritenuto di dividerli in quattro parti, che sono quattro periodi storici. Il primo periodo va dai primi anni del Novecento al 1922. Il 1922, come è noto, è l'anno in cui si registra l'avvento del fascismo e quindi inizia un'epoca nuova. Quindi la prima parte, la parte prima del volume, è 1900-1922, cioè dagli inizi del secolo all'avvento del fascismo. La seconda parte invece va dal fascismo, cioè dal 22, e arriva fino al 1945. Ci comprende il ventennio fascista, la caduta del fascismo, la guerra, la liberazione, fino al 1945. La terza parte la faccio iniziare dal 1946. Perché dal 1946? A marzo del 1946 si svolsero, a Cariato, come in tutti i comuni d'Italia, le prime libere elezioni comunali del post-fascismo. E questa terza parte va dal 1946 ai primi anni Sessanta. Poi segue la quarta parte, che va dagli anni Sessanta e arriva, diciamo, fino ai giorni nostri, fino al fine del secolo e all'inizio del millennio. L'evento storico del millennio, come sappiamo, è il grande giubileo dell'anno 2000, che ha avuto i suoi riflessi anche a Cariato. E infatti nel libro io dedico uno spazio notevole anche a questo evento. Quindi sono 100 anni esattamente, 1900-2000. Se vogliamo indicarla con i due sindaci, il sindaco di inizio novecento era Marco Venere. L'ultimo sindaco del secolo è stato il professore Damiano Montesanti. Per finire poi con la quarta parte, che sono degli approfondimenti. Bravo, dimenticavo queste. Oltre a questa suddivisione cronologica della materia in quattro parti, ci sono poi altri capitoli che io ho chiamato approfondimenti, in cui mi sono occupato della storia del borgo marinaro. Cioè, generalmente, quando parliamo della storia di Cariato, ci riferiamo sempre al centro storico cosiddetto, al borgo medievale, cinta da mura, quattrocentesca. La marina viene trascurata e ho voluto appositamente raccontare anche la storia della marina. Perché anche la marina di Cariato, all'inizio si chiamava la Borgata Marina, ha una sua storia. Che io faccio iniziare un po' lontano nel tempo, nel 600, c'è una stampa dell'abbate Pacichelli che indica un piccolo agglomerato urbano attorno alla chiesetta della Madonna delle Grazie che è chiamato il Borgo da Basso. Ecco, lì allora nasce il primo nucleo urbano, quello diciamo che è il centro storico della marina. Però, per parlare di sviluppo della marina, dobbiamo arrivare a fine 800, inizio 900. E lì c'è una data importante, il 1870. Che cosa è avvenuto in 1870? Da Cariato passa la ferrovia Taranto-Reggio Calabria. E quindi quello è stato un patto notevolissimo che ha poi determinato lo sviluppo della marina. Ecco, come già in un certo senso anticipato, la storia politica amministrativa di Cariato nel 900 inizia con il sindaco Marco Venneri. Ci puoi dire qualcosa su questa personalità che sarà presente nella vita pubblica paesana fino agli anni 30 inoltrate? Sì, la figura di Marco Venneri è una figura poliedrica, nel senso che è stato un uomo molto presente nella comunità cariatese tra la fine dell'Ottocento, ma anche prima, diciamo, a partire dagli anni 80 dell'Ottocento fino all'anno della sua morsa, avvenuto nel 1935. Chi era Marco Venneri? Apparteneva ad una famiglia notabile di Cariati, presente nella storia del nostro paese fin dal 500, insomma, i Venneri. Marco in particolare era amante della poesia, delle belle lettere e diciamo che la sua connotazione culturale principale è quella di essere stato un maestro di belle lettere. Lui ha insegnato nel nostro seminario Vescovile per un quarantennio ed era molto stimato. Ci sono tanti attestati di allievi illustri che ha avuto e che lo hanno avuto come maestro e che esaltano la sua preparazione, la sua capacità comunicativa, insomma, no? Ma al di là di questi aspetti, aveva poi interesse per la poesia, scrisse tanto nel campo della poesia, però pubblicò poco, molte cose rimassero inedite, non furono pubblicate. Qui a noi interessa, sotto un altro profilo però, la figura di Marco Venneri. E infatti dico nel mio libro che lui è stato anche un ottimo pubblico amministratore. Alla fine dell'800, nell'898-99, lui era sindaco di Cariata e lo era ancora nel 900, ecco perché con lui faccio partire la storia dei sindaci del 900. E il problema che aveva in quegli anni il nostro comune era questo. Nel febbraio del 99 c'era stato un incendio doloso che aveva distrutto l'archivio comunale e anche l'anagrafe e quindi lui si trovò a gestire questo problema di rimettere a posto questa documentazione che era andata perduta e si impegnò per far ricopiare questi registri di nascita, la documentazione che era andata, diciamo, distrutta nell'ingendio del febbraio del 1899. E riuscì a risolvere questo problema. Inoltre poi era molto attento anche ai beni culturali perché anche da questo punto di vista è una figura significativa. Ha mostrato sempre molta attenzione per esempio per la chiesa del cimitero, quella che ufficialmente è la chiesa degli osservanti. E in quegli anni si interessò anche per, diciamo, rimettere a posto questa chiesa che era piuttosto patiscente e non solamente agli inizi del Novecento ma anche successivamente ebbe grande interesse per questo monumento chiesastico cariatese, molto importante. Addirittura nel 1915 lui fece venire a Cariate Paolo Orsi, il grande famosissimo archeologo storico dell'arte, per fargli vedere questa chiesa. Paolo Orsi si interessò alla chiesa degli osservanti e sollecitò gli amministratori comunali di Cariate di rispettare quel monumento, di non deturparlo, di non farlo un uso non appropriato e via discorrente. Quindi figura veramente notevole, eccezionale quella di Marco Venere, scrittore, poeta, cultore di beni culturali e anche ottimo amministratore. Una delle opere pubbliche più importanti realizzata e cariata agli inizi del XX secolo fu la sistemazione urbanistica della strada principale del paese, il corso 20 settembre. Chi era il sindaco dell'epoca e come fu realizzata l'opera? Sì, il corso 20 settembre, come tutti noi sappiamo, è lastricato con lastre di basalto proveniente dalla zona del Vesuvio. Quindi è una pavimentazione importante che è stata realizzata nel 1905-1906. All'epoca il sindaco di Cariate era Francesco Linardi, un tecnico, un geometra che governò il nostro paese in quegli anni e siccome il corso 20 settembre era l'arteria viaria più importante del paese e si trovava in pessime condizioni, c'era continuamente fango, uscivano liquami, era in una condizione veramente depronevole. E allora questo sindaco ebbe questa sensibilità di incaricare un tecnico che era di origine lucana ma che in quel periodo viveva a Cariate, un certo Iannuzzi, se adesso non vado errato, ricordo bene, e incaricò questo tecnico di progettare una sistemazione di questa strada importante del paese, il corso 20 settembre, che fu realizzata in tempi rapidi nel giro di due o tre anni. Dopo la realizzazione di questa strada fu anche costruita quella piccola torre sul frontone della cattedrale in cui fu collocata l'orologio pubblico, la torretta dell'orologio pubblico, quella risale al 1904 e rientra in questo progetto di valorizzazione urbanistica del corso 20 settembre realizzata appunto ai tempi del sindaco Linardi. Nel 1907 si abbatté su Cariate una pesante calamità naturale, una devastante alluvione che provocò la frana dell'Ione Carrera, con gravi danni per le case e per i proprietari. Per fortuna non ci furono morti. Cosa ci può dire di quell'evento calamitoso che rimase per molti anni nella memoria dei cariatesi? Chi era il sindaco dell'epoca e come gestì questa difficile situazione? Sì, questo è un fatto di cronaca degli inizi del Novecento che è rimasto nella memoria dei cariatesi per molto tempo. Si tratta di questo. Nel febbraio del 1907 ci furono grandi piogge alluvionali a Cariate che causarono una grossa frana nel rione Carrera dove c'erano delle case upole ovviamente costruite con modesti materiali e quindi queste abbondanti piogge che si ebbero per alcuni giorni determinarono un'alluvione tremenda e la distruzione di molte delle case di quel rione. Alcune famiglie dovettero abbandonare le loro abitazioni, le case semidistrutte dall'alluvione furono abbattute, altre furono recuperate. Fu un evento calamitoso, straordinario, di cui rimane l'eco anche sulla stampa locale. Infatti io sono riuscito a trovare le cronache dell'epoca, siamo nel 1907, allora il giornale più importante della Calabria era la cronaca di Calabria che io ho utilizzato moltissimo in questo mio libro. La cronaca di Calabria riporta questo evento calamitoso, verificato a Sacariati, e racconta nei minimi dettagli quello che è accaduto. Furono chiamati in aiuto, allora non c'era la protezione civile, è intervenuto l'esercito da Catanzaro, sono intervenuti delle squadre di militari, sono venuti in aiuto delle popolazioni alluvionate e hanno lavorato molto bene, tanto da aver lasciato un ricordo notevole nella popolazione, un grande spirito di riconoscenza e quando poi loro andarono via, l'amministrazione comunale, memore di questo lavoro ben fatto dai militari di Catanzari, intitolarono due strade di quel rione a questi militari che erano venuti a Cariata ad aiutare gli alluvionati. Infatti noi abbiamo una via 49esima Pandaria e una via 94esimo Reggimento Pandaria, quindi queste due denominazioni toponomastiche sono state realizzate proprio nella circostanza di questa frana del 1907. Importanti opere pubbliche furono realizzate nel periodo amministrativo del sindaco Francesco Lettieri 1910-1917, quali furono? Ecco, un altro sindaco molto operoso, agli inizi del Novecento, è stato Francesco Lettieri, Don Ciccio Lettieri, che era un medico tra l'altro, insomma, no? E questo sindaco si adoperò moltissimo per migliorare la vivibilità del paese, riuscendo a realizzare la rete fognaria e l'acquedotto. Quel famoso acquedotto che tutti noi ancora oggi vediamo nei pressi del cimitero, la località si chiama Santa Lucia, fu realizzato proprio all'epoca di questo sindaco, nel 1914, quella costruzione che è sempre una piccola torretta medievale, insomma, no? Quello è l'acquedotto realizzato dal sindaco Lettieri. Ma all'epoca di questo sindaco ci fu un'altra realizzazione, per esempio lui riuscì a fare, aprire a Cariati il primo asilo infantile, siamo nel 1915, e la sede dell'asilo non era ancora, come poi avverrà successivamente nel 1927, il Palazzo Chiriaci, ma la sede dell'asilo era nel locale a pieno terra dell'odierno Palazzo Pismatara, l'antico Palazzo Pismatara, lì c'era l'asilo per i bambini. Questo sindaco collaborò molto con il Vescovo dell'epoca, ci fu anche questa circostanza, che all'epoca avevamo un Vescovo illuminato, direi a Cariati, Monsignor Giovanni Scotti, molto impegnato nel sociale, che collaborò con l'amministrazione e quindi l'asilo nacque da questa collaborazione tra potere civile e potere religioso. E poi un altro fatto ancora importante, verificato sui tempi del Vescovo del Sindaco Letieri, è la nascita a Cariati del primo istituto bancario, quindi già nel 1914 c'era una cassa di prestanza agraria. Anche in questa operazione c'era lo zambino di questo Vescovo Scotti, molto in gamba, molto illuminato, che operò molto nelle sociali. Quindi nel 1914 nasce la prima banca, quali furono poi i successivi momenti storici nell'ambito delle istituzioni bancarie nel nostro paese? Questa delle istituzioni bancarie è un'altra storia che poi ha avuto degli sviluppi negli anni successivi, quindi il primo istituto bancario, dicevamo, è questa cassa di prestanza agraria nata nel 1914. Poi nel 1916 divenne cassa rurale ed artigiana, è la stessa banca che si trasforma e diventa qualcos'altro. Come succede anche oggi. Non viene questa volta incontro soltanto ai contadini, prestanza agraria, ma anche agli artigiani, infatti si chiama cassa rurale ed artigiana e siamo nel 1916, dicevo. Poi arriviamo al 1926, un altro dato importante nella storia dell'istituzione bancaria cariata. Nel 1926 nasce la cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, che sarebbe all'origine di tutte le banche che negli anni hanno cambiato nome e che oggi sono BPR. Se andiamo indietro nel tempo, indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro, arriviamo al 1926, quando nasce la cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, che negli anni, che io ricordo che ero ragazzo, negli anni 50 aveva la sede sul corso del 20 settembre nei locali del palazzo dei Ciccopietti. Allora gli uffici erano tutti al centro storico? Sì, erano tutti al centro storico. Alla marina non c'era nulla. Ecco, Cariati e la Grande Guerra, 1915-1918. Come fu vissuta nel nostro paese quella tremenda esperienza che coinvolse l'Europa e tutto il mondo occidentale? Quale fu la posizione dell'amministrazione in carica e quella della chiesa locale e del vescovo di Cariati? Sì. Allora, la Grande Guerra, cioè quella che comunemente chiamiamo la Prima Guerra Mondiale, 1915-1918, perché l'Italia c'è in guerra nel 1915, ma la guerra era già iniziata l'anno prima, nel 1914, come sappiamo. Quindi fu un evento straordinario di portata europea, per non dire mondiale, appunto perché mondiale si chiama questa guerra. E all'epoca il sindaco di Cariati era, se non ricordo male, ancora questo Francesco Lettiere di cui abbiamo parlato prima a proposito delle opere pubbliche. Quale fu l'atteggiamento degli amministratori cariatesi di quegli anni? La nostra amministrazione si dichiarò favorevole a questa guerra, che era vista come una sorta di quarta guerra di indipendenza per liberare i territori ancora non riscattati, Rente, Trieste e via discorrente. Quindi c'era in giro uno spirito patriottico e quindi molte posizioni della società italiana erano a favore della guerra. Anche alcuni vescovi si schierarono a favore della guerra. Tra questi il vescovo di Cariati, che all'epoca era questo Monsignor Giovanni Scotti. Una posizione un po' anomala, perché sappiamo che il Papa dell'epoca, che era Benedetto XV definì la Prima Guerra Mondiale una inutile strage e quindi condannò decisamente la grande guerra. Il nostro vescovo si schierò insieme a qualche altro vescovo di Calabrese. La chiesa locale si è messa in una posizione diversa da quella del Papa. Sì, si schierò a favore della guerra. E appunto in questo volume ho tratto poi nella parte degli approfondimenti anche la figura di Monsignor Scotti. E lì vengono esaminate le sue lettere pastorali. C'è una delle lettere pastorali, datata da Cariati, in cui lui prende netta posizione a favore di questa guerra, che per lui doveva essere una guerra liberatoria, dopo la quale sarebbe nato un mondo nuovo, un mondo di pace, più sicuro, insomma, era convinto di questo e fu un interventista il nostro vescovo Scotti. Così anche l'amministrazione, che all'epoca, si diceva, era guidata da Francesco Lettiere. E nell'amministrazione c'era sempre il professore Marco Venneri, anche lui, spirito patriottico, che si schiera a favore della guerra. Nel 1914 in Consiglio Comunale fu commemorato Fabio Friozzi, al quale fu intitolato nello stesso anno la piazzetta di fronte al Palazzo Venneri, che diventerà sede del municipio dal 1935. Chi era Fabio Friozzi e perché la sua figura appartiene alla storia di Cariati? Sì. Fabio Friozzi è una figura importante perché appartiene alla storia della famiglia Spinelli. Sappiamo che gli Spinelli sono stati feudatari di Cariata, hanno mantenuto il titolo di principe di Cariata dagli inizi del 1500 fino all'eversione della feudalità 1806 e anche oltre. Quindi questa famiglia illustre di origine napoletana che per secoli era conosciuta con il titolo di principe di Cariati. Fabio Friozzi appartiene a quella famiglia, ma qualcuno potrebbe osservare, lui si chiama Friozzi e invece la famiglia Spinelli, che cosa era accaduto? E' che ad un dato momento della storia di questa nobile famiglia non c'erano più eredi maschi e l'ultima erede del titolo dei principi di Cariata era Margherita Spinelli, Margherita Spinelli dalla quale sposò poi un Friozzi, Lorenzo Friozzi e da lì derivarono gli altri discendenti che avevano il cognome di Friozzi, ma il titolo ereditato dagli Spinelli per parte femminile. Fabio Friozzi era figlio di uno di questi Friozzi. Il suo padre era un diplomatico e visse per alcuni anni in Cina. Tanto è vero, adesso dico una curiosità che non tutti conoscono, Fabio Friozzi, principe di Cariata, è nato a Shanghai, in Cina. Del 1914 all'età di 24-25 anni si è voluto recare in Libia per partecipare alla guerra che lì si stava combattendo contro alcune popolazioni ribelle e combattendo contro queste popolazioni ribelle perse la vita eroicamente Fabio Friozzi. Poi la notizia arrivò a Cariata nel 1914, il sindaco era sempre Francesco Lettiere, nel Consiglio Comunale c'era sempre il professore Marco Venere. Si decise, siccome questo Friozzi era l'ultima rete della dinastia degli Spinelli, principe di Cariata, di omaggiare Fabio Friozzi che portava il titolo di principe di Cariata, era l'ultimo principe di Cariata e fu deliberato di intitolargli la piazzetta di fronte al palazzo Venere, allora era un palazzo privato della famiglia Venere Natale, poi negli anni successivi, soltanto a partire dal 1935, divenne la sede del nostro municipio, ma in quegli anni, nel 1914, era la residenza della famiglia Venere Natale. Quindi la piazzetta di fronte al palazzo Venere fu intitolata a Fabio Friozzi, il principe di Cariata, come dice la targhetta Valmore, caduto a Zuetine, Cirenaic nel marzo del 1914. Restiamo nel 1914, è ricordata anche per un importante fatto sociale la nascita a Cariata per la prima cooperativa di pescatori, ecco, chi fu l'artefice di questa iniziativa? Ne stavo parlando già prima, questa è un'iniziativa che rientra in questa politica di impegno sociale manifestata dal vescovo Giovanni Scotto, vescovo veramente che può essere considerato il più importante dei vescovi di Cariata del Novecento, insomma, pensato lui era originario dell'isola di Ischia e lì era rettore del seminario quando nel 1911 fu nominato vescovo di Cariata. Quando venne a Cariata era giovanissimo, aveva soltanto 37 anni, arrivò qui, trovò un paese povero di pescatori, lui veniva da Ischia, anche lui da un paese di pescatori, si impegnò molto per aiutare questa categoria sociale molto debole e si adoperò per fare nascere la prima cooperativa di pescatori, di cui lui stesso fu presidente, il vescovo Scotty. E poi fece anche dell'altro, sempre per aiutare le classi sociali più umili, lo abbiamo già detto, come fece nascere la prima banca, il primo asilo, insomma, e tante altre opere sociali. Quali iniziative furono prese a Cariata per ricordare i 38 caduti della Prima Guerra Mondiale? Quando fu realizzato il monumento al loro dedicato? Sì, quando nel 1917-18 cominciarono ad arrivare le notizie di giovani cariatesi che erano caduti sui fronti della Prima Guerra Mondiale, si testò nella popolazione un senso di grande commozione e anche nell'amministrazione comunale, si decise di ricordare, di eternare la memoria di questi giovani che erano caduti per la patria, che erano generalmente provenienti da famiglie umili, di contadini, di operai, per lo più classi sociali molto umili. E ancora una volta la figura più significativa in tal senso come promotore di un'opera di riconoscimento per questi caduti fu quella di Marco Venneri, il quale propose nel Consiglio Comunale di installare delle targhe con i nomi di questi caduti. Secondo la sua proposta dovevano esserne preparate due di queste targhe marmore, una per Cariate e un'altra per Terra Vecchia particolare. Terra Vecchia all'epoca era una frazione di Cariate, il Rione veniva chiamato. Però poi non se ne fece nulla e passarono degli anni e nel periodo fascista, esattamente nel 1927, si costituì un comitato per realizzare a Cariate il monumento ai caduti. Terra Vecchia ormai si era staccato da Cariate nel 1921, quindi bisognava ricordare i caduti cariatesi. Questo comitato fu presieduto dall'arcipreta rene, un sacerdoto molto importante e potente nella chiesa locale cariatese di quegli anni. E poi ci fu anche in questo comitato il potestà di quel periodo, che è una figura prestigiosa di cui diremo in seguito, il nobile Silvio Mollo, questo Silvio Mollo che fu potestato dichiarato per un solo anno nel 1927, ma è rimasto nella storia perché era una personalità culturale, era un giornalista, uno scrittore, un uomo di cultura, e fu lui a volere la realizzazione di questo monumento. L'inaugurazione poi avvenne successivamente, quindi nel 1927 si costituì il comitato, si raccorsero dei fondi e quelli che contribuirono in maggior misura furono i nostri emigrati in Argentina. Il monumento si realizzò finalmente nel 1931, quando era potestà Antonio Formaro. In quell'anno fu inaugurato il monumento ai caduti. Ai tempi del sindaco Vincenzo Cristaldi, 1917-1920, crollò in seguito ad abbondanti pioggi un tratto della cinta muraria medievale. Qual è il suo racconto storico di quell'evento? Sì, questo è un evento calamitoso, analogo a quello del rione Carreira del 1907. Ce ne fu un altro, insomma, nel 1918, sempre in seguito a queste pioggi abbondanti, ci fu un crollo clamoroso a Carreira, crollò un pezzo della cinta muraria, quello che si trova sotto l'attuale Palazzo Vennere, al rione Ponte, insomma, dove noi lo chiamiamo il Pelè, c'è la piazzetta con la fontanella realizzata in epoca recente. Forse sarà la parte dove se ne vede una composizione con mattoni, probabilmente. No, 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 si vede chiaramente che è stata riproposta la ricostruzione in pietra di quel pezzo di mure che era crollata, ma si vede chiaramente che è diversa dalla parte antica, insomma. Quindi crollò un pezzo di queste mure e insieme a quelle crollò una parte di Palazzo Vennere, quello di Via Trinità, mi riferisco, non il Palazzo del Comune, il Palazzo di Via Trinità al Ponte. E anche allora sorsero delle polemiche sulle responsabilità di questo crollo, su chi doveva intervenire per rimettere le cose in ordine. Alla fine poi se ne fece carico l'amministrazione. Il proprietario di Palazzo Vennere in quegli anni, parlo sempre di Palazzo Vennere di Via Trinità, era Salvatore Vennere. Dal 1920 al 1922 l'amministrazione comunale di Cariati fu retta dal sindaco Gaetano Bevacqua. Quali fatti importanti si registrano in quel periodo? Sì, Gaetano Bevacqua occupa pure un posto importante nella storia amministrativa di Cariati, perché diciamo che è l'ultimo sindaco dell'era pre-fascista. Dopo di lui inizia poi il ventennio e alla fine del ventennio il ritorno alla democrazia. Quindi fu sindaco dal 20 al 21-22 e in quegli anni si verificarono due fatti di estrema importanza per la storia del nostro paese. Prima di tutto la separazione di Terraveccia da Cariati. Nel 1921 il famoso rione di Terraveccia, che da anni aveva questa aspirazione all'autonomia dietro molte insistenze, riuscì a ottenere il distacco da Cariati e la costituzione in comune autonoma. Questo avvenne nel 1921, quando appunto era sindaco Gaetano Bevacqua. Un altro fatto importante, verificato in quel periodo, fu la quotizzazione delle terre comunali. Siamo negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale di Coben. Quindi la guerra si era conclusa nel 18, 19, 20, 21. Quindi le popolazioni del Meridione, ma non solo del Meridione, che avevano partecipato alla Grande Guerra, soprattutto i contadini, aspiravano ad avere un convenso, un riconoscimento per il loro impegno. C'erano stati dei morti in tutti i paesi, c'erano tanti invalidi, anche a Cariati, e allora si reclamava l'assegnazione di un pezzettino di terra da poter coltivare e da poter costituire una risorsa per le famiglie che vivevano all'epoca in estrema povertà. E allora si decise di quotizzare dei terreni dei maniali, palumbo, maccia, sterrasse, e fu realizzata questa quotizzazione, siamo nel 1921. E ci fu una cerimonia, diciamo, ufficiale, all'aperto, in cui furono messe in una specie di vassoio, di contenitore, dei bigliettini, poi estratte uno per uno, per assegnare queste famose quote. Questo avvenne nel 1921, all'epoca del sindaco Bevacqua. Oltre a questi due fatti importanti che ricordate, c'è da dire che questo sindaco si prese a cuore anche un'altra problematica che era diffusa in quegli anni, quella dell'abusivismo edilizio. Può sembrare una cosa strana, ma già negli anni venti era cominciato a Cariati questo fenomeno negativo. La Marina era ancora molto estesa, c'erano tanti spazi liberi, che erano giardini, orti, insomma, e stava nascendo proprio allora la borgata marina, cosiddetta. E la gente costruiva lì testa sua, ognuno senza tener conto di nessuna regola, casette, casupole, ovviamente costruite alla manopeggia con materiale scadente, insomma. Cosa fecero gli amministratori per frenare questo fenomeno? Eh, questo volevo dire, che questo sindaco non rimase con le mani in mano, ma cercò di ostacolare, di contrastare questo fenomeno dell'abusivismo, senza grandi esiti, però lui ci provò. Allora, a partire dal 1922-23, entriamo in era fascista. Cosa accade con l'avvento del nuovo regime? Il suo libro racconta in modo dettagliato come fu vissuto questo periodo del nostro paese, poco conosciuto, dobbiamo dire, e cosa ci dice a tal riguardo? Allora, quindi questa è la domanda sul fascismo, l'inizio dell'avvento del fascismo. Come dicevamo prima, fino al 1921-22 ancora c'erano i sindaci eletti, poi dall'ottobre del 1922 con l'avvento del fascismo furono sospese, diciamo, gli amministratori democraticamente eletti e si inviarono presso i comuni ad amministrarli dei commissari, commissari pre-petizi, insomma, di nomina regge. In attesa, dal 1922 al 1926 ci furono questi commissari che amministrarono i nostri comuni. Poi nel 1926 furono istituiti i potestà. La figura del potestà è una figura completamente nuova che ci richiama un po' la storia medievale, quindi è un amministratore assoluto, unico, che governa il paese, insomma, senza dar conto a nessuno. E il primo potestà che viene mandato a Cariate è un notaio cosentino, si chiama Albi Marini. Poi subito dopo arriva Silvio Mollo, di cui ho già detto qualcosa prima, a proposito del monumentale caduto, insomma, un'altra figura significativa. E poi ci furono anche dei potestà che erano figure della società locale, come il commerciante Antonio Formare, che è stato potestà di Cariate negli anni 30, più o meno dal 30 al 32, 33, 34. E poi il potestà cariatese che invece ha governato più a lungo è stato Don Nicola Venneri, di questa antica famiglia, che era un agronomo, una persona, diciamo, legata agli antichi valori, era figlio del famoso Marco Venneri, di cui abbiamo parlato precedentemente. Don Nicola Venneri governò come potestà il comune di Cariate dal 1935 fino al 1943, cioè fino alla caduta del fascismo. Ecco, tanti furono gli accadimenti della storia di quegli anni a Cariate. Ce ne vuole raccontare qualcuno? Si può soffermare un po' sui dolorosi incidenti del Venerdì Santo 1925, che rischiarono di far perdere a Cariate la sede Vescovile. Si, è chiaro che nell'arco di un pentegno sono tanti fatti accaduti nel nostro paese in quel periodo, insomma, che sono minuziosamente raccontati in questo volume sul Novecento Cariate. E' uno dei fatti più eclatanti di cui ancora oggi si parla e si fantastica, dando una interpretazione a volte errate, e, diciamo, l'episodio degli incidenti che si verificarono di fronte alla chiesetta di Sant'Antonio, sul corso del 20 settembre, il Venerdì Santo del 1925. Che cosa avvenne quel giorno? Noi sappiamo che la processione del Venerdì Santo, all'epoca si svolgeva il Venerdì Santo, la processione si snodava per le viuzze del centro storico e quando si trovava nelle vicinanze di una delle chiese del paese, le famose tre chiesette minore, l'Annunziata, Sant'Antonio e la Trinità, la processione faceva una sosta, una breve sosta, e poi riprendeva. Quell'anno, quando la processione giunse davanti alla chiesetta di Sant'Antonio, questa sosta non ci fu. Perché non ci fu? Perché il vescovo, che era Monsignor Giuseppe Antonio Caruso, era stato eletto vescovo di Cariate nel 1919, adesso siamo nel 25, questo vescovo non aveva legato bene con la popolazione locale, aveva qualche contrasto con alcuni settori della popolazione cariatese, e soprattutto con coloro i quali gestivano la festa di Sant'Antonio, che era appunto legata a questa chiesetta. Allora il vescovo emanò un suo decreto di interdizione di quella chiesetta. Averla interdetta voleva dire che era una chiesa che non bisognava prendere in considerazione, per cui la sua indicazione era che la processione, quell'anno, davanti alla chiesetta di Sant'Antonio, non si sarebbe dovuta fermare. Ma non ci fu una scomunica, come alcuni riportano? No, scomune poi è avvenuto dopo sulle persone che si sono responsabili degli incidenti, è un'altra cosa. Quella è l'interdizione della chiesetta, per via del fatto che coloro i quali gestivano la festa erano in contrasto con le linee, diciamo, con le direttive della chiesa cariatese, del vescovo, insomma, e lui emanò questo decreto di interdizione di quella chiesetta, in conseguenza del quale non ci si sarebbe dovuto fermare davanti alla chiesetta. Infatti andrò a finire e invece che cosa successe? Quando la processione arrivò lì, non tutti erano informati probabilmente di questa indicazione del vescovo, ci fu un tentativo di fermarsi, mentre il vescovo e i sacerdoti gridarono, no, no, qui non ci dobbiamo fermare, andiamo dritto. E a questo punto nacque un tapperuglio nel quale fu coinvolto con lo stesso vescovo che prese qualche pugno, insomma, il vescovo però... Qualche spintone. Eh, qualche spintone. Il vescovo però, invece di perdonare le persone che si erano rese responsabili di questo episodio, si offese terribilmente, andò via da Cariate, tornò al suo paese d'origine, che era Petiglia Policastro, nominando qui un suo delegato e nel frattempo informò ovviamente di questo grave episodio la Curia di Roma, la Chiesa di Roma, che emanò un editto, un decreto di scomunica nei comprondi di coloro i quali si erano resi responsabili di quel clamoroso episodio, insomma, no? E in questo frattempo che cosa accadde? Che l'esistenza della sede vescovile di Cariate fu messa in discussione, perché i cariatesi si erano resi responsabili di questo, diciamo, gesto sacrilogo e qualcuno pensava adesso Cariate perderà il privilegio di essere a sede vescovile. Infatti ne stavano approfittando da altri due paesi della nostra diocese di allora, Ciro e Strongoli, però poi non se ne fece niente, la Chiesa di Roma fece passare del tempo, passarono 11 anni, quindi Cariate rimase sede vacante e nel 1936 si decise finalmente di ripristinare la sede vescovile e arrivò a Cariate Monsignor Faggiano che governò poi la nostra diocese per vent'anni, dal 1936 al 1956. Cariate fu come altri paesi della Calabria luogo di confino politico negli anni del regime. Il suo libro riferisce anche di un confinato illustre che fu montato a Cariate e vi morì nel 1936. Di chi si tratta? Cariate negli anni del fascismo fu anche luogo di confino insieme a tanti altri paesi della nostra provincia, della Calabria intera, per esempio Longobuc fu uno dei paesi che ospitò il maggior numero di confinati. Anche Cariate ebbe una ventina di confinati. Chi erano i confinati? Erano oppositori del regime, del regime fascista che venivano puniti con il confino politico. Cos'era il confino politico? Tu eri emiliano, devi fare due anni in Sardegna, tu eri lombarda, ti manda a passare tre anni in Sicilia. Si veniva estraneati in luoghi lontani dalla propria residenza per punizione. Ma erano personaggi pericolosi? No, il più delle volte erano semplici oppositori che magari non avevano commesso questi grandi delitti, ma bastava aver parlato pubblicamente contro il duce e questo era sufficiente per essere mandato al confino. A volte episodi, diciamo, irrilevanti determinano il confino come punizione. Poi c'era anche qualcuno che era oppositore dichiarato, ma tante volte erano piccoli episodi che avevano causato il confino e a Cariati arrivarono alcune di questi confinati. Tra essi ce n'è una che è una figura importante di elevatura nazionale. Si tratta di Giovanni Merloni. Giovanni Merloni era di Cesena, Emilia Romagna ed era un uomo di cultura, un laureato in lingue, un intellettuale, un politico, che aveva partecipato alla nascita del Partito Socialista italiano e già nel 1892 fu uno dei primissimi iscritti al Partito Socialista, però era anche un massone. E allora, negli anni del fascismo, i massoni non erano ben visti dal regime e lui fu scoperto che aveva una relazione con dei massoni in Francia, scoprirono una corrispondenza epistolare tra questo Merlone e questi massoni italiani immigrati in Francia e per punizione fu mandato al confine nel paese di Cariati in provincia di Cosenza. Siamo nel 1936. Qui si ammalò e pare qui si è morto lo stesso anno 1936. Io ricordo nel mio libro un particolare. Nel 1986, quindi nel 36-86, erano trascorsi 50 anni dal confine politico di Giovanni Merlone. A Cesena Giovanni Merlone è un nome noto, è un personaggio importante e nella sede del comune c'è una lapide intitolata Giovanni Merlone che si conclude Morea Cariati nel confinato politico nel 1936 a Cesena. Bene, professore, allora diciamo che per questa nostra prima puntata ci fermiamo al 1936. Ci sarà la prossima puntata, riprenderemo da questo anno in poi a continuare a raccontare ecco con molto piacere ed attenzione quello che sarà poi il decorso degli anni a seguire. invitiamo perciò a chi ci sta seguendo a ritornare alla prossima trasmissione dei libri incontro con l'autore il professore Franco Liguori per conoscere meglio il libro Cariati nel Novecento tra cronaca e storia. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio il professore Liguori, ci vediamo alla prossima. grazie a te Catald per questo primo incontro sul mio libro Cariati nel Novecento e che mi auguro incontri il gradimento di seguaci del tuo frequentatissimo sito web Cariati.net ringrazio anche gli ascoltatori e arrivederci alla seconda puntata di questo appuntamento culturale. alla prossima. Cariati nel Novecento